Eccoci qui con Stefania Logatto, networker italiana numero uno in Europa, secondo businessforum.org e alla quale giro così, la prendo e la giro così, una domanda che è arrivata a noi di corsi.it da parte di un ragazzo che ci dice guarda io mi trovo a fare network, a proporre la mia azienda di network alle persone, ma trovo questa chiusura, trovo che le persone continuano ad essere sempre scettiche, non capiscono l'opportunità, non è che magari gli danno del matto perché sono persone che comunque conosce, però in qualche modo vede tutte queste barriere, tutti questi no. Ecco, chiaramente è una roba che è successa anche a te, sarebbe interessante sapere da te qualche consiglio per questo nostro cliente. Devi imparare a spiegare bene il network marketing come professione alle persone, abbiamo dato tutti gli strumenti nel corso di tutto quello che dico, cosa dico, ad esempio faccio sempre l'esempio che in realtà noi facciamo un network tutti i giorni solo che non veniamo mai retribuiti, condividiamo sempre un buon film, condividiamo sempre un buon libro, quindi in realtà il passaparola viene fatto sempre. Altra cosa oggi il futuro è l'online, se le persone basta che comunque vedono una cosa su Instagram, uno secondo cliccano, lo comprano, arriva a casa, è sempre come tu ti poni l'atteggiamento che tu hai quando ne parli, la sicurezza che tu hai, il modo che lo fai, è molto molto legato a essere in offerta e non in domanda. A essere in offerta e non in domanda. Tra l'altro mi dicevi anche che giustamente, adesso io non so da quanto tempo questo ragazzo faccia network, però mi dicevi che come tutte le cose c'è una curva di apprendimento, no? Ma anche nelle altre professioni. Certo, quindi ci sono persone che pensano che in due giorni già diventano le professionisti, ma qual è il lavoro? Ma anche se vado domani a lavorare alla cassa del supermercato, ma dovrò imparare come si fa. Assolutamente. E la stessa cosa è il network, invece molti pensano, lo dico mia sorella, mio cugino diventerò ricco. No, non funziona così, anzi per imparare a fare network bene bisogna imparare per l'appunto, puoi chiedere alla tua up line, puoi chiedere ai tuoi sponsor che ti insegnino e puoi anche ascoltare qualcuno dei consigli di Stefania Logatto che ha dato gratuitamente anche all'interno della presentazione Networker milionari alla quale puoi partecipare semplicemente cercando il link intorno a questo video.